Ciao, sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Beats Academy e voglio darti il mio più caloroso benvenuto ad una nuovissima puntata di Impact Girl dedicata questa volta a come fare il networking nel modo più efficace, soprattutto se sei un inguaribile introverso come la sottoscritta. Prima di procedere però ti invito ad iscriverti al canale YouTube cliccando soprattutto sulla campanellina che trovi accanto al pulsante altrimenti non riceverai nessuna notifica quando escono i nuovi video. Se invece stai guardando il video dal sito beats-academy.it slash podcast ti invito ad iscriverti via mail per ricevere tutti gli aggiornamenti gratuiti ogni volta che esce una nuova puntata. Cominciamo! Ciao a tutte e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale tutta al femminile e oggi parliamo di una cosa che io non so assolutamente fare, ossia networking, inteso come relazionarsi ad altri professionisti, parlare con le persone durante gli eventi cosa che mi riesce particolarmente male, infatti la mia specialità è rinchiudermi in bagno, buttare via la chiave, aspettare che l'evento finisca e poi fare la foto finale per testimoniare che io c'ero. Ma faremo tutto questo, quindi non con me sola perché non sarai in grado di darvi alcuna dritta al riguardo, faremo tutto questo con Eleonora Rocca imprenditrice, esperta di marketing e infatti è marketing manager per My Marketing Side, che è un'azienda leader nel campo della beauty tech fondatrice di Digital Innovation Days e Mashable Social Media Day Italy, con un'abilità, se già, se ancora insomma da questa intro non l'avete capito molto spiccata, tra le altre, di creare connessioni veramente powerful. Ciao Ele e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Ceci, bellissimo essere qui, non vedevo l'ora di arrivare. Ecco, anch'io non vedevo l'ora di averti perché voglio che mi insegni tutto quello che sai sul networking. Ok, allora, partiamo con tre regole basi o di più, se ce ne sono di più, per fare networking nel modo corretto, a prescindere che io posso essere un'introversa, un'estroversa, non importa, le tre regole che valgono sempre. Ok, allora, innanzitutto, come prima dicevi, frequentare eventi è molto importante per allargare il proprio spettro, diciamo, di persone che conosciamo e che possono diventare utili per i nostri progetti imprenditoriali e non. La seconda cosa è non avere paura, diciamo, di fare, aprire la conversazione, essere i primi, diciamo, ad iniziare una conversazione, parlare con persone che non conosciamo. E la terza è essere estroversi e avere curiosità, ok? È molto importante avere curiosità, cercare di individuare chi potenzialmente può diventare strumentale per noi. Quindi partiamo dal primo punto. Sì. Partecipare ad eventi. Già questa cosa per un introverso, anche a metà, non necessariamente al 100%, è paralizzante. Ma perché? Perché cerco su internet vari eventi e vengo praticamente sommerso da possibilità. Tra l'altro, più l'evento è grande, per cui magari è un evento con 3.000 persone, oppure 300 persone, sono più che sufficienti, più diventa, più mi intimidisce personalmente, no? Non riesco a capire che cosa posso fare. Io arrivo lì, compro il biglietto, arrivo lì e... Però, prima di comprare il biglietto, come faccio a selezionare qual è l'evento ideale? Soprattutto se sono una persona che non ama questo genere di cose, ne vuole fare poche, ma buone. Ok. Ecco, questa è veramente un'ottima domanda, nel senso che credo che negli ultimi anni, un po', globalmente, diciamo, internet e tutti i nuovi social hanno fatto sì che nascano veramente tantissimi eventi. Ci sono tantissime possibilità e non abbiamo un tempo, no, illimitato. Soprattutto perché chi è imprenditore ha bisogno di, come dici tu, massimizzare il proprio tempo. Quindi, come faccio a scegliere l'evento giusto? Allora, anzitutto, capire qual è, io sono una grande fan degli eventi che hanno un concept, un, come dire, topic fisso, no? Cioè, che magari ogni volta, che ne so, ogni mercoledì una volta si parla di e-commerce, una volta si parla di fashion, una volta si... Cioè, quindi, individuare quello che veramente ci interessa, quello che è troppo generico e solo networking così, magari evitarlo, no? Cioè, quindi, un argomento, un argomento che ci interessa, un argomento che ci interessa ed è strumentale, magari, a quello che facciamo. L'altro modo per selezionare è capire chi parla. E poi, diciamo che nelle piattaforme, quelle ben fatte, si riescono a vedere anche le persone che partecipano. E quindi, anche lì, perdere un po' di tempo ad andare a capire chi sono questi profili, i profili che possono interessarci. E magari mettersi in contatto, ecco, questo potrebbe essere una cosa carina per chi è un po' meno estroverso, magari non ha voglia di andare lì e presentarsi. Magari prendere il contatto prima, perché di solito ti permettono, comunque lasciano le mail, cioè ci sono le mail, o comunque c'è addirittura, nelle piattaforme fatte bene, la possibilità proprio di contattare e messaggiare la persona. Magari mettersi in contatto prima e dire, ciao, io sono bla bla bla, faccio questo, visto che tu fai questo, se ci sarai all'evento, come vedo che ci sarai, se mi confermi che ci sarai, magari cerchiamo di vederci o un po' prima, o comunque darsi un appuntamento all'interno dell'evento. Così, diciamo che la parte di rottura del ghiaccio è avvenuta prima dell'evento stesso. Quindi ti riferisci agli speaker che parlano all'evento, cioè a contattarli? Speaker, ma a volte anche proprio persone che partecipano, ad esempio, posso fare un esempio che c'è a Londra che funziona molto bene, che si chiama Table Crowd, che appunto fa questi eventi settimanali con sempre un topic di riferimento e che ti fa vedere ogni volta che le persone si iscrivono chi si sta iscrivendo, chi si sta aggiungendo diciamo al tavolo. E così tu puoi messaggiarle e capire appunto se anche, non solo dal punto di vista di chi parla, ma di chi partecipa, c'è qualcuno interessante. Se ho il timore che non sarò mai abbastanza interessante, no? Questa è un po' una fissa particolarmente tipica di noi donne, non tutte ovviamente, però c'è sempre un po' quella paura di esporsi. E dirò, oddio, magari poi scrivo e questo o questa non mi rispondono e io mi sento quasi non all'altezza. C'è un trucchetto, qualcosa, magari qualcosa che posso scrivere nel messaggio per aumentare le probabilità che mi arrivi una risposta? Allora, questo per esempio succede molto spesso a me, nel senso che io ricevo molto spesso un sacco di messaggi a cui a volte purtroppo non riesco a rispondere perché magari sono troppi o perché magari sono troppo lunghi. Quindi, sempre con grande umiltà, nel senso che è normale che se una persona fa lo speaker o se una persona è una personalità, come dire, conosciuta, può avere tante persone che gli chiedono informazioni. Però, appunto, abbiamo tutti un tempo limitato, siamo tutti molto impegnati, magari in viaggio e quant'altro, e quindi mandare un messaggio che sia breve, ma conciso e che contenga, come dire, le informazioni principali. Quindi, non sono interessante, ma è relativo, nel senso più che altro dire, io ho questa età, mi chiamo questo, faccio questo, oppure mi piacerebbe fare questo, oppure sto sviluppando questo progetto e mi piacerebbe capire se ci sono delle sinergie con te perché ho visto che tu fai questo e questo. Cioè, far capire che c'è stato uno studio sulla persona, cioè se io ricevo un messaggio e capisco che la persona che mi sta scrivendo ha visto, ha capito il background e si è un po' studiato, diciamo, il mio profilo, mi sembra sbagliato, diciamo, non premiarla almeno con una risposta. Però, ecco, bisogna essere concisi, cioè, chi sei, che cosa vuoi, perché vuoi parlare con me? Queste sono le tre cose che devono venire fuori in un messaggio. Se non ci si sente troppo interessanti, secondo me bisogna un po' superare questa, come dire, paura, perché a volte, in inglese si dice, not any idea is a bad idea, no? Cioè, nel senso, proporsi, anche se non si ha un background magari di livello, però se si fa percepire energia, interesse, passione rispetto a quello che l'altra persona sta facendo o quello che si può realizzare insieme, secondo me è sempre premiante. Tra l'altro mi veniva in mente, mentre parlavi, che può essere utile, forse, non far intendere che stiamo cercando di abusare del tempo dell'altro, nel senso che il fatto di dire, ok, mi piacerebbe incontrarti perché potrebbe esserci sinergia, potrebbe essere interessante, ma dall'altra parte io potrei dirti, ok, proprio perché ho continuamente messaggi di questo tipo che mi arrivano, mi devi dare quella in più, quel qualcosa di diverso che mi, che coglie la mia attenzione, perché appunto, come dicevi tu, con tutta l'umiltà del mondo non è perché uno se la tira, ma perché magari a volte non c'è il tempo materiale o il messaggio si perde nella thread di Facebook, in Messenger o quello che è. E quindi, che cosa può essere quel qualcosa in più? Magari possiamo andare a studiarci, hai parlato di studio della persona, possiamo andare a vedere se quella persona ha delle passioni in comune, non lo so, snowboarding, surfing o quello che è. Assolutamente sì, nel senso che la parola chiave, secondo me, ma questo proprio di ogni relazione, che sia imprenditoriale, che sia personale, che sia professionale, è la parola scambio, cioè bisogna far percepire che non stai solo chiedendo, perdonami il termine, magari la consulenza gratuita o appunto abusando, come dici tu, del tempo della persona, ma che tu hai da dare qualcosa a quella persona, anche se non è qualcosa di, come dire, economicamente tangibile o fisico, no? Ma è proprio una condivisione, cioè far capire che si vuole condividere una passione, si vuole condividere un'idea, che c'è comunque uno scambio, perché voglio dire, io posso farti tantissimi esempi dove ad esempio ho, tra virgolette, mentorato alcune ragazze più giovani, e che però poi quella cosa magari ha dato anche qualcosa a me, perché in quella conversazione sono venute fuori delle cose in cui mi è venuta in mente, ok, però questa ragazza posso far fare questa cosa, per esempio, all'interno del mio evento o all'interno di qualche mio progetto, quindi poi, tra virgolette, mi è tornato utile, anche se alla fine ero forse più io che aiutavo lei, però ecco, su questo bisogna, bisogna essere bravi a far capire che c'è lo scambio. Quindi non aver paura di dare, anche se può essere a volte fastidioso perché uno dice vorrei subito qualcosa in cambio, e non aver paura di esporsi. Quindi abbiamo detto la prima cosa era selezionare l'evento giusto e prendere il biglietto, andare. La seconda cosa, ricordamela? Dicevo, è il discorso della confidence, no? Cioè proprio di non avere paura di esporsi, di buttarsi, perché come abbiamo detto, un'idea è quella di contattare la persona prima, l'altra idea, se non si ha tempo, o comunque se ci si trova ad andare a un evento magari non pianificato, cosa si fa? Io arrivo lì, che cosa faccio? Allora, cerco magari di inserirmi all'interno di gruppetti o magari individuo persone che sono da sole, magari in quel momento, per esempio il momento in cui si mangia, magari c'è l'aperitivo, è sempre un po' quello dove inizi a parlare, perché magari apri la conversazione dicendo Ah, sembrano buone queste cose e poi da lì, ah ok, chi sei? Che cosa fai? Insomma, cioè cercare di trovare quel momento per inserirsi in una conversazione che poi diventa effettivamente il concetto del networking, cioè io capisco chi sei, che cosa fai, magari ci scambiamo i biglietti da visita, magari non succede niente, ma magari invece succede qualcosa. Pensiamo per un attimo allo scenario più drammatico, drammatico soprattutto per uno che è come me, una persona che come me si trova spesso intimidita dalle grandi folle. Entro in questo evento e come per magia o per un maleficio tutti stanno già parlando con tutti e io mi sento l'unica, l'unico satellite, l'unico neurone impazzito da solo e tu dici ok, avvicinarci, avvicinarmi a qualcuno o ad un gruppo di persone, come posso farlo senza interrompere o senza sembrare e no, lo sfigato che si avvicina e non sa che cosa dire ed è lì che magari chiaramente l'ha fatto perché non sapeva dove altro andare. Allora, secondo me la cosa chiave è sicuramente avvicinarsi in maniera però carina, sorridente, cioè non far percepire che c'è paura, non so come lo so che è difficile, però sono tutte, come dire, sono emozioni che secondo me si riescono a percepire, cioè un conto è avvicinarsi tutto intimidito così e un conto invece è avvicinarsi magari con una postura dove si capisce che c'è sicurezza di sé, dove ci si inserisce, magari ci si avvicina al gruppetto però ecco senza interrompere, magari non è carino se si sta già parlando, entrare e dire ah ciao ragazzi by the way io sono xy, però ecco fare magari qualche passettino, avvicinarsi, ascoltare che cosa si sta dicendo e magari trovare quella parola che può fare inserire noi all'interno della conversazione perché magari quelle persone stanno parlando proprio di cose che a noi interessano oppure fingere un po' e dire ah ecco anch'io stavo proprio pensando a questo, ah ecco anch'io mi sono appassionato, oppure semplicemente chiedere ciao ragazzi come è stato l'evento, come mai siete qui, posso chiedervi no, in fin dei conti se pensiamo agli eventi di networking è quello un po' il motivo per cui tutti sono lì quindi non è sbagliato secondo me essere un po' sfrontate e dire come sta andando, vi piace l'evento, come mai siete qui c'è un modo accattivante per introdursi in maniera tale da rimanere nella mente delle persone senza essere sguaiati o sfacciati ovviamente beh sì, secondo me, su quello un po' bisogna lavorarci secondo me perché la parola chiave è un po' carisma nel senso che come gli speaker è la stessa cosa nel senso riuscire a restare nella mente delle persone cioè quando uno va ad un evento anche banalmente gli speaker sono tutte persone che fanno questo di lavoro, ok? quindi sono tutte persone molto carismatiche però alla fine uno di un evento di tre giorni è difficile che si ricordi tutti gli speaker e te ne ricordi sempre uno, un po' la stessa cosa, uno, due, tre massimo, no? perché è quello che ti rimane impresso nel discorso del networking è un po' la stessa cosa perché tutti dicono la stessa cosa ciao io sono Eleonora Rocca, faccio questo e questo, quell'altro dice faccio questo e questo secondo me le cose chiave sono mostrare sempre grande passione e amore per quello che si fa perché poi magari lo vedremo anche nel resto dell'intervista secondo me quello che rende una persona di successo rispetto a un'altra molto spesso è la motivazione, è l'anima di quella persona che viene fuori in quello che fa io non avrei mai potuto poi magari ci arriviamo non avrei mai potuto raggiungere i risultati che ho raggiunto senza soldi, senza investimenti se non avessi avuto una grande anima dietro a quello che stavo creando che sono riuscita a far arrivare al cuore delle persone quindi bisogna dire le cose facendo percepire che siamo sicuri di noi, siamo sicuri di quello che vogliamo realizzare, che se parliamo di noi siamo in noi i primi che crediamo in noi questo è bellissimo, tra l'altro vorrei fare una distinzione fra credere in noi stesse che magari è una cosa che ad alcune riesce meglio ad altre un po' meno e credere in quello che facciamo che potrebbe essere una cosa leggermente diversa perché magari io posso conoscere i miei limiti sapere di non essere una persona super estroversa, quindi di credere poco in me stessa in un contesto di folla, di evento, ma so che credo in quello che faccio e appena comincio a parlarne è un po' quello che succede quando comincio a parlare di Impact Girl che stiamo registrando oggi davvero è un fiume in piena e la persona viene coinvolta in questo fiume e cominciamo a remare insieme quindi è molto bella questo dettaglio che hai aggiunto e credo possa davvero essere la chiave per superare quella timidezza iniziale, concentrarci su quello che facciamo senza dimenticare, dimmi la sua ragione, che dobbiamo anche imparare ad ascoltare non soltanto concentrarci su quello che noi dobbiamo dire c'è una storia che credo io l'ho sentita da Jay Abraham che è questo guru del marketing americano con uno stile un po' aggressivo per i miei gusti però insomma quello è il suo e lui racconta questa storia dove dice che si trovava in aeroporto incontra questo tizio in questa sala d'aspetto, l'aereo era in ritardo, non ricordo i dettagli e questo comincia a parlargli di tutta la sua vita insomma Jay non lo interrompe, quest'altro continua a parlare, a parlare, a parlare per un sacco di tempo alla fine della conversazione è ora di andare a prendere questo volo e la persona ringrazia Jay dicendo sei la persona più interessante che io abbia mai conosciuto quando lui non ha neanche detto una parola o quasi per cui questo lui lo raccontava per sottolineare come a volte la chiave sia non tanto quella di cercare di sembrare interessanti ma interessati certo, certo è come quello che dicevo prima anche sul discorso del messaggio è sempre il discorso dello scambio io ti sto dicendo una cosa che a me appassiona e cerco di creare quel link con te rispetto a quello che appassiona te mostrando lo stesso interesse che tu stai mostrando nell'ascoltare me si deve creare un po' una sorta di magia ecco secondo me è questo proprio la parola magia il momento in cui la passione e l'anima di quella persona si incontrano con l'altra sembra un po' mistico però va sicuro che è vero per me è sempre stato così anche con te in qualche modo insomma possiamo raccontare alla fine siamo conosciute su skype però c'è stata subito questa sinergia nel volere le stesse cose anche nel supportare le donne perché quando dici ci sentiamo sempre insomma non ci sentiamo a posto e tutto io noto che nell'universo femminile questo succede anche molto di più rispetto all'universo maschile a me è capitato tante volte anche perché ho sempre lavorato nel tech e nei meeting molto spesso ero l'unica donna e nonostante io sia una persona molto sicura di me però mi sono trovata momenti in cui quasi sembrava che gli uomini dicessero cavoli però lei è anche intelligente però lei senza voler fare insomma voler puntare il dito verso gli uomini e quant'altro credo semplicemente che siano meno abituati a vedere donne sicure di sé quindi quello che tu dici è molto importante nel nostro universo ancora di più che gli uomini diciamo che hanno fatto un po' più di strada rispetto a noi a proposito hai parlato di postura no e in effetti una delle cose che mi fece notare il mio compagno durante un evento di qualche anno fa era eravamo ad una festa e un sacco di gente di successo i classici eventi da cui io scapperei con i pattini se potessi e metterai il turbo e mi disse ma la smetti di camminare guardando in basso e io mi sono resa conto che in effetti avevo questa abitudine quando ero all'interno di una folla molto grande nonostante io avessi i miei progetti fossi conosciuta non importa nel dentro di me nel mio piccolo mi sentivo che volevo scappare e questo veniva poi riflesso nella mia postura per cui io guardavo in basso e il mio compagno mi disse come puoi pensare che qualcuno possa incrociare lo sguardo con te e cominciare a parlarti o tu a lui se guardi in basso quindi ti chiedo le c'è qualche altra al di là del guardare in alto possibilmente ad altezza occhi c'è qualche altro tip magari qualcosa che fai prima di entrare ad un evento tu parli spesso sul palco quindi qualcosa che a livello di postura e di energia fai per darti la carica beh sembrerà banale però secondo me il tacco fa la differenza nel senso la postura deve essere innanzitutto dobbiamo stare su cioè non perché le spalle comunque in avanti sono un qualcosa che dà un senso di chiusura no invece noi dobbiamo essere aperti noi stiamo dicendo al mondo che ci stiamo aprendo a questo mondo il tacco aiuta proprio per una questione che se hai il tacco necessariamente devi trovare il tuo equilibrio verso l'alto e quindi è più facile in realtà al di là del fatto che il tacco fa bello però è proprio una cosa di postura ti aiuta di più a dover stare su e quello che tu dici tra l'altro è molto vero anche sul palco perché per esempio quando io vado sul palco una cosa che faccio è guardare in fondo giù alla sala perché così mi dimentico di tutti quelli che ho davanti quindi non sento questa emozione infatti vabbè magari te lo racconto dopo che comunque in realtà per me parlare sul palco era una delle cose che mi proprio mi spaventava di più fino a solo dieci anni fa e poi ho scoperto che invece è una delle cose che sto fare meglio quindi vabbè ma anche su questo volendo potremmo dire delle cose l'ultima cosa che ti dico è che il discorso postura me l'ha insegnato molto la danza se pensate alle ballerine le ballerine la postura è praticamente tutto perché perché loro devono stare in equilibrio perché perché devono creare un movimento armonioso e creare anche loro quell'impatto con il loro pubblico quindi è un po' la stessa cosa quindi immaginare di essere su un palco anche se non ci siete tirarsi su essere energici sorridenti anche no energici sorridenti tacco rossetto e via ecco questo adesso può accadere nel stereotipo femminile però sono piccole cose che aiutano a sentirci meglio con noi stessi ci sentiamo più belle ci sentiamo più sicure e tra l'altro mi veniva in mente se uno non è una ballerina o non lo è stato è semplicemente allenarsi un pochino quindi muoversi come abitudine nel senso che nel momento in cui attiviamo il core e lo rendiamo un pochino più forte siamo anche abbiamo intanto meno mal di schiena quindi i tacchi diventano meno problematici ma poi tendiamo soprattutto se apriamo la parte alta del corpo a non fare questo che soprattutto in una vita moderna dove stiamo davanti al computer guidiamo stiamo davanti alla tv siamo sempre delle piccole streghette tutte arroccate su noi stesse è chiaro che può che può dare una mano questo giusto per rispondere all'obiezione di chi magari diceva vabbè ma io danza non l'ho fatta io non sono una ballerina si può lo stesso e poi magari si può pensare che magari uno fa se vuole migliorare questa parte di sé magari si trova degli sport che appunto ti costringono magari non è che devi fare la ballerina professionista però magari ti fai quelle lezioni di danza che in qualche modo ti aiuta a capire come stare nella posizione giusta lo fai come una sorta di training perché no un'altra cosa tra l'altro che mi è venuta in mente a livello di postura o comunque come dire gestualità è che quando conosci qualcuno all'interno appunto di situazioni network e tutto anche la stretta di mano è molto molto importante cioè la stretta di mano deve essere non stridolare la mano assolutamente no però è bella vigorosa no perché vuol dire sto creando una connessione con te e te lo faccio sentire anche guardare appunto la persona negli occhi mentre lo fai piacere io di solito dico piacere e leonora rocca no faccio proprio dico il mio nome guardo la persona negli occhi e stringo la mano in maniera powerful e quello già fa la differenza piuttosto che persone che non vogliamo moscezza vogliamo dimostrare confidence ecco una volta che io ho partecipato a questo evento sono sopravvissuta all'evento ho creato delle connessioni intanto ti chiedo anche questo per chi magari non ama partecipare a questi eventi desidera andare ad un evento e conoscere il mondo perché così è posto per tutto l'anno no un po la tendenza che si ha di voler fare tutto e subito ma in realtà è giusto voler conoscere più persone possibili o sarebbe il caso di darsi un traguardo un pochino più realistico e puntare alla qualità di quelle relazioni e se sì qual è questo traguardo realistico una due tre persone di più ma allora secondo me non c'è un numero specifico però sicuramente bisogna fare un lavoro qualitativo nel senso che un'altra cosa che io dico sempre è il contatto di per sé non è detto che porti qualcosa il contatto bisogna saperlo sviluppare e allora bisogna trovare quelle persone che sappiamo che possono diventare chiave ovvio che queste sono un po caratteristiche che non tutti hanno magari di natura ma quando lo inizi a fare poi pian piano lo impari e impari anche a diventare molto più selettivo nel senso che capisci da subito dalle prime parole chi è quella persona che può concretizzare qualcosa perché l'altro rischio è anche che ci si disperda un po' nel senso che quando fai tanto network conosci tante persone magari tante di queste ti dicono ah sì beh facciamo andiamo è così però poi quelle che veramente riescono a mettere a terra progetti o comunque a rispondere a fare dei follow up sono molte di meno quindi diciamo che se conosciamo tante persone c'è una parte che si riduce di per sé perché magari poi gli iscrivete e non vi risponde o non fa no non fa follow up un'altra parte però poi si riduce anche perché non tutte quelle persone capite che sono strumentali che sembra brutto da dire però che vi servono poi per fare qualcosa no quindi la qualità è molto importante non c'è un numero preciso ma bisogna anche fare i conti un po' con il tempo che si ha no anche lì se io ho dei soci 3 4 5 soci che possono all'interno del mio progetto che possono fare follow up magari su dei verticali specifici perché io dico incontro le persone che mi possono servire perché ne so al video making persone che mi possono servire per lo storytelling persone per il social media no cioè cominci già individuare nella tua testa chi ti può servire per che cosa come sviluppare questo network e eventualmente quanto tempo tu hai poi da dedicare per questi follow up perché comunque richiede tempo richiede una mail magari richiede una telefonata e anche lì se poi dopo seminiamo tanto e raccogliamo poco diventa frustrante quando parli di follow up può essere che una persona che io conosciuto ad un evento oggi possa possa risultare un ottimo partner oppure un ottimo collaboratore un aiuto a distanza di un anno da oggi come mantengo attiva la relazione se so che è una persona valida anche se in questo momento nel mio radar non c'è non lo so quella specifica cosa che fa la persona allora intanto secondo me linkedin è molto efficace in questo perché comunque uno si connette poi riesce a capire quello che quella persona posta facciamo vedere a quella persona quello che noi postiamo ok postiamo condividiamo quello che è quindi questo è importante il follow up secondo me va fatto subito dopo l'evento con una mail dove ci si presenta e tutto si crea un primo contatto con il primo contatto poi si fa una call e poi appunto nel tempo a seguire se non c'è niente di immediato che comunque si crea io quello che consiglio è a creare un piccolo database perché così non ci si disperde perché veramente quando a un certo punto si comincia ad andare tanto in giro poi ci si dimentica anche delle persone quindi bisogna fare un minimo di profilazione e cominciare a creare proprio database e poi magari ogni tanto appunto mandare un messaggio o comunque fare anche solo like o commentare qualcosa che quella persona posso condivide è comunque rimane comunque un po come dire sì ciao come stai ok ti sto seguendo sto vedendo quello che fai che fa sempre piacere tra l'altro richiede davvero poco tempo perché tanto lo facciamo comunque il fatto di scrollare come degli zombie tanto vale scrollare in maniera funzionale produttiva domanda un po fastidiosa se io voglio uscire da una sono all'evento oppure facciamo i due scenari scenario uno sono ad un evento una persona si avvicina a me io capisco che non è una conversazione che voglio avere non mi si scolla di dossi io non so che cosa fare come farlo come allontanarla la persona in maniera gentile e diplomatica questa è la prima domanda e poi ti faccio la seconda allora secondo me bisogna essere un po british se vogliamo dire politically correct che è una cosa che ho imparato molto bene a fare a Londra cosa che non ero brava a fare prima perché appunto vivo a Londra da sei anni è trovare tra virgolette una scusa però detta comunque in modo carino no tipo scusami io adesso devo andare no ti lascio però i miei i miei dettagli i miei contatti cioè nel senso fate comunque capire che vinte anche se poi magari mi interessa però fate capire comunque mi interessa e comunque lasciarsi con un saluto come dire a risentirci a rivederci oppure ah guarda ci vediamo ci vediamo dopo magari prima che vado via ti risaluto no se succede prima dell'evento dirà ok adesso vado un attimo che parlo un po devo parlare con qualcuno oppure potete dire ho fissato un meeting con un'altra persona quello che mi hai detto è molto interessante ti lascio i miei contatti magari ci saluto comunque dopo prima di andare via ecco supponiamo che poi la persona mi contatti ci contatti e con una super proposta che però non interessa come chiudiamo la cosa in maniera diplomatica questa era la seconda domanda allora in quel caso io tendo a dire trovo quello che mi hai proposto molto interessante ma in questo momento non ho abbastanza bandwidth non ho abbastanza tempo da dedicare a qualcosa magari di nuovo o aggiungere questo alla lista di cose che ho da fare per esempio prima dell'evento no io a volte proprio sfrutto la questione che se l'evento tra tre mesi ho tantissimo da fare quindi alcune cose nuove non riesco a svilupparle però magari ci risentiamo più avanti perché poi comunque anche questo secondo me l'imprenditore bravo è anche quello che sa mettere da parte una cosa in un certo momento però poi riprenderla magari dopo perché non è detto che quella cosa o quella persona che in quel momento non vi sembra tra virgolette utile non possa diventarlo a un certo punto a me a volte è capitato veramente di riconnettere i puntini in un modo che dico a cavolo quasi no quasi mi sembra magico che questo contatto me lo sono ritrovato in questo momento però ecco se l'avessi completamente ignorato questo non sarebbe successo quindi lasciatevi comunque sempre una porta aperta parliamo comunque di business quindi vale sempre la pena per questo anche utilizziamo parole come utile strumentale non è mai un usare qualcuno ma è semplicemente il creare come hai detto tu all'inizio uno scambio do o des quindi parliamo ovviamente a livello professionale senza nulla togliere al fatto che poi da questi eventi possono nascere delle splendide amicizie oltre che collaborazioni Sì certo ho anche amori a volte capita Ele adesso arriva la domanda cilegina sulla torta quella che ho aspettato con impazienza di farti fino all'ultimo voglio fare un evento oppure voglio proporre un'intervista coinvolgendo un personaggio noto non necessariamente può essere una celebrity quindi un personaggio noto in tutta Italia o in tutto il mondo oppure un personaggio noto nel mio settore diciamo un personaggio che io considero qui come una sorta di modello a cui faccio riferimento Come diavolo faccio a raggiungere questo personaggio Allora ti dico nel mio caso questo è successo tante volte nel senso che per portare speaker molto noti al mio evento ho dovuto ricorrere diciamo a degli intermediari nel senso che di solito le persone famose o comunque importanti in alcuni settori hanno delle agenzie o comunque degli intermediari che in qualche modo fanno da tramite Allora bisogna raggiungere queste persone e però bisogna essere bravi a cercare di convincerle sul fatto che c'è qualcosa che veramente a quella persona stai dando no? Cioè nel senso che il personaggio famoso se decide ti faccio l'esempio pratico di venire al mio evento magari anche gratuitamente ok? Cosa che non farebbe magari in mille altre situazioni lo devo convincere che gli sto dando qualcosa di importante dall'altra parte che nel mio caso siccome si era un evento ad alto impatto mediatico anche se quella persona è già famosa però comunque dà un senso di prestigio in qualche modo salire sul mio palco Perché io scelgo proprio le persone più cool diciamo del settore e allora facendo percepire questo valore è più facile rompere quel muro Quindi trovare gli intermediari giusti e convincerli che stiamo dando e donando qualcosa appunto anche noi di importante dall'altra parte E poi anche lì fare molto network nei posti giusti cioè ci sono tutta una serie di eventi o comunque di circoli tra virgolette un po' chiusi dove però se si riesce ad entrare magari anche tramite interposta persona Si va a quell'evento si va a quella festa si va a quel party si va a quella giornata di formazione dove trovi la persona che non troveresti in qualunque altro evento tra virgolette aperto al pubblico Quindi anche lì è un po' un secondo step del networking di primo livello se così vogliamo dire Sì quindi sì tutto poi si costruisce inutile che cerchiamo di puntare al personaggio famoso se prima non siamo neanche mai andati ad un evento di settore Conoscendo i nostri peers diciamo se così vogliamo dire Esatto per esempio a me è capitato anche che durante tutti i miei eventi tra i partecipanti ci fossero delle agenzie che gestivano degli influencer famosi E che poi io sia riuscita in qualche modo a intercettarli contattarli e dirgli magari questa settimana sono a Milano So che ti è piaciuto il mio evento so che sei venuto vediamoci che ho un paio di cose da proporti Anche lì ecco non bisogna avere paura di essere i primi a proporre qualcosa E l'importante è andare lì preparati e anche andare lì con un po' di non dico tirarsela però insomma far capire che non stai lì che stai piangendo perché vuoi stai mendicando perché altrimenti non ci arriveresti se non ci fossero loro Devi essere anche bravo a dire io ho una cosa molto cool tra le mani te la voglio proporre no vediamo cosa possiamo fare insieme bisogna essere anche E quando ricevi un rifiuto suggerisci di insistere aspettare poi insistere o lasciar perdere? No insistere devo dire questo magari il mio feedback personale non mi piace tantissimo nel senso se non dico di mollare però comunque se non ci interessa in quel momento ok va bene non ci interessa in quel momento Riprendere la conversazione più avanti sì però appunto aggiungendo poi qualcosa cioè se hai capito che da quella parte Magari prima volta ti hanno detto di no perché la tua proposta non era abbastanza convincente la volta dopo aggiungi un altro pezzo che può essere L'offrire qualcosa come nel mio caso a volte mi è capitato non faccio nomi magari dire so che quella persona quest'anno lancia un libro Penso che il mio evento Possa essere un'ottima piazza Quindi rispetto a un anno fa vedo una motivazione in più per venire Al che le aggiungo di seguire quindi questi personaggi sui social perché magari Li contattiamo senza in realtà aver fatto i compiti no? Hai parlato del fatto che questa persona stava lanciando un libro non potremmo mai saperlo se non la stiamo seguendo Certo E quindi il fatto di semplicemente seguirle quindi ancora una volta utilizzare i social per un motivo funzionale ci può aiutare a creare la connessione che ci serve Per poi arrivare ad un eventuale sì Ele qual è la donna che pensi dovrai intervistare dopo di te? Allora ho pensato a Elena Lavezzi perché diciamo è una donna molto giovane anche lei come noi ovviamente Che però ha fatto una bella carriera nel senso delle bellissime esperienze nell'ambito fintech sia a Milano che a Londra quindi suggerisco lei Raggiungeremo anche lei e nel frattempo ragazze vi ricordo che qui sotto l'episodio se state guardando L'episodio dal sito biz-academy.it Slash forward podcast Troverete tutti i punti della puntata suddivisi minuto per minuto così che possiate tornare a guardare o ad ascoltare quello che più vi interessa E vi ricordo naturalmente che c'è sempre sia la versione audio sia la versione video quindi potete guardare o ascoltare Riguardare o riascoltare la puntata in qualunque momento Vi invito inoltre a condividere qui sotto il Suggerimento pratico più utile che avete assorbito da questa puntata avete infilato nella vostra cassetta degli attrezzi Deciderete di utilizzare per il vostro lavoro io a lei ti ringrazio tantissimo ancora per questa puntata bellissima e noi ci sentiamo alla prossima Questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a bizacademy Puoi farlo visitando il sito biz-academy.it Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl